La tecnologia oggi si sa regna sovrana nei nostri automezzi, quindi macchine, camion, furgoni, camper e quant'altro sono super accessoriati, quindi se si dispone, come me, di una macchina un po' datata, come si fa a dargli un piccolo upgrade? Per scoprirlo guardate fino in fondo questo video. Io sono sempre Capezza, vi do il benvenuto in questo mio nuovo video e vediamo di cosa parliamo. Chiaramente tutto questo subito dopo la sigla. Ebbene ragazzi, dunque eccoci qui ritornati sul canale a parlare di auto. Questo oggettino dunque sarà in grado di cambiare la nostra vita, di cambiare le nostre abitudini, fornendoci così una maggior sicurezza quando saremo alla guida del nostro veicolo. Di cosa parliamo? Parliamo di una centralina, come state vedendo qui nelle immagini, che è capace di trasmettere via radio con dei sensori, come questi qui, appunto di trasmettere le informazioni relative alla pressione delle nostre ruote. Questa è una centralina che verrà montata all'interno del nostro abitacolo. Come fanno a comunicare tra loro? Non ci sarà una connessione Bluetooth, non ci sarà una connessione wireless, ma la connessione che avverrà tra i componenti, tra i vari componenti, i quattro esterni e l'unità interna, sarà via radio. Quindi non ci saranno interferenze, perdite di connessione, cadute di connessione, di trasferimento dati e quant'altro. Una cosa bella e importante da dire subito, prima di aprire il nostro pacchetto, è che questi sensori hanno un accelerometro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando la macchina sarà ferma, quindi la nostra ruota avrà cessato il suo movimento, il nostro sensore, ovvero tutti e quattro i nostri sensori, smetteranno di funzionare andando così in stand-by e riducendo dunque il consumo della batteria all'interno. Ma adesso che facciamolo? Andiamo ad unboxare, vediamo cosa contiene la confezione e facciamo subito qualche prova. Questo giocattolino l'ho acquistato su AliExpress, un prodotto totalmente cinese. Per chi fosse interessato lascio sempre il link in descrizione, ma adesso andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Quindi unboxo la scatola davanti a voi e andiamo a trovare subito un cavo di ricarica. Non l'ho detto, ma adesso andremo a vedere, questo strumento è dotato già di un pannellino solare, perciò di questo se ne potrà fare anche a meno. Se venisse messo in un modo, diciamo, montato in un modo dove non ci sarà l'accesso diretto al sole, potremo sempre caricarlo con il suo cavetto. È presente già uno stick di biadesivo, manuale di istruzioni che andremo a vedere. Sicuramente non troveremo la lingua italiano, ma chiaramente sarà tutto quanto in inglese. Andiamo a prendere il pezzo forte. Eccola qui la nostra centralina. Questo è il pannellino solare di cui vi parlavo prima, la pellicola di protezione che andiamo subito a togliere. Perfetto. L'inserimento per il cavo micro USB presente anche nella maggior parte dei nostri smartphone. Un display digitale. Inoltre troviamo una chiave per il montaggio dei nostri sensori che andremo a vedere subito. E relativi dati. Perché i relativi dati? Perché una volta andato a montare il nostro sensore, un attimo che lo prendo, su ogni nostra singola valvola delle ruote, andrà montato e stretto un dato che andrà a fare appunto da contro dato per far sì che i nostri sensori non vengano smontati. Ma adesso andiamo a dare un'occhiata più da vicino ai nostri quattro sensori. Io dunque ragazzi per una comodità di comprensione e velocità del video ho posizionato i miei sensori così come il costruttore ci consiglia di montare i nostri sensori. Front left rear left front right rear right ovvero frontale sinistro posteriore sinistro frontale destro posteriore destro ogni relativo dato e la sua chiavetta. C'è da dire un'altra cosa all'interno di ogni sensore sarà presente una batteria giustamente che come detto prima quando la macchina sarà in condizione di stop, di fermo, le ruote non girando non avremo un assorbimento sul nostro sensore perché ricordo nuovamente ha un accelerometro il che vuol dire che quando la ruota gira lui comincia a funzionare e quando la ruota si ferma automaticamente va in stand by. Adesso andiamo a vedere come attivare. Vedete presente? Vediamo se riesco a farvelo vedere. ok presente all'interno c'è questo microforellino che andando ad avvitare sulla valvola della nostra ruota il nostro pneumatico l'aria entrerà facendo dare diciamo un settaggio una misurazione quindi sia pari a due due e mezzo due otto lui comunicherà con la centralina e gli dirà quanta pressione abbiamo in ogni singolo pneumatico la centralina potrà allertarci quando il range minimo o il range massimo e diciamo venga raggiunto è settabile da 0 a 3 atmosfere quindi non pensate di metterlo su furgoni particolarmente grandi o canyon perché altrimenti non funzionerebbe. Andiamo adesso a dare un'occhiata più da vicino per quanto riguarda accensione spengimento e le impostazioni. Per quanto riguarda il mio modesto parere ha una piccola pecca che poteva essere ovviata. In pratica il display non può roteare ovvero è fisso quindi se si mettesse così o così molto probabilmente ci sarebbe la possibilità di non vedere correttamente il display perché è sempre un lcd perciò dovremo ricordarci a stare attenti a montarlo più dritto possibile in modo più orizzontale possibile per avere una giusta visione una migliore visione su questo display. Quindi adesso andiamo a fare l'accensione e vediamo cosa c'è riportato sul display. Per accedere all'accensione del nostro dispositivo non bisogna essere dei geni quindi troveremo qui un tasto con la freccetta sinistra destra e a questo tasto terremo schiacciato per qualche secondo e vediamo cosa succede. Ok perfetto il nostro dispositivo ha emesso un bip e è in fase di accensione. Chiaramente non rileva nessun tipo di pressione perché non abbiamo montato ancora le nostre valvole i nostri sensori anzi scusate sulle nostre valvole. Lo andiamo a fare subito e andiamo a rivedere la nostra prima impostazione. Una cosa importantissima che non ho detto anzi sono due le cose che potremo vedere qui in alto a destra dove sto indicando adesso io con il mio dito il livello di carica della batteria del dispositivo ma una cosa molto 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 importante ragazzi è che oltre a segnare le quattro diciamo pressioni dei nostri quattro pneumatici troveremo presente anche in nella parte gialla nei quadratini più piccoli la temperatura del nostro pneumatico anzi dei nostri pneumatici infatti vedete bar e grado centigrado grado celsius perciò adesso di corsa andiamo a montare i nostri dispositivi e vediamo cosa succede. Ricordiamo inoltre che il setup standard impostato intanto dal costruttore è sulla pressione minima di 1,8 bar a una pressione massima di 3.1 il che vuol dire che ha questi due valori preimpostati il nostro diciamo segnalatore la nostra centralina emetterà un suono di allarme avvisandoci appunto del malfunzionamento di qualcosa di una bassa pressione o alta pressione all'interno di un pneumatico o più pneumatici. Ricordiamoci inoltre che la temperatura che rileverà sui nostri pneumatici sarà un massimo di 70 gradi quindi a meno che voi non vogliate camminare sulla lava non avrete diciamo da correre alcun rischio per quanto riguarda la segnalazione acustica in merito alla temperatura ma diamo sempre un'occhiata ai nostri valori quindi adesso andiamo a montare i nostri sensori e vediamo come funzionano se funzionano. Dunque per il montaggio non faremo altro che svitare la nostra vecchia valvola, il nostro vecchio tappo e andare a mettere il relativo sensore. Chiaramente non dovremo fare errori montando i sensori altrimenti sul display saranno riportati in modo scorretto posteriore e sinistro. Prima di fare questo ricordiamoci di avvitare il suo contro dato che farà in modo dopo di lasciare attaccato il nostro sensore. Prima però di attaccare il nostro sensore dovremo vedere come si fa per sostituire eventualmente la batteria quando essa dovesse finire. Quindi con la stessa chiave in dotazione per stringere il contro dato andremo a vedere all'interno la sua batteria. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ok questa è la batteria non ha apparentemente no praticamente non sembra avere delle protezioni particolari. La batteria la vediamo insieme è di tipo di tipo di tipo CR1632H ok da 3 volts non ci sono pellicole protettive quindi dovrebbe essere già pronto all'uso. L'andiamo a richiudere è presente un piccolo gommino intorno alla felittatura per far sì che quando si possa lavare la macchina o quando magari ci siano giornate di pioggia il nostro sensore rimanga diciamo così protetto dalle intemperie specie dall'acqua. Quindi mando abbattuta il mio dato vado a stringere ecco che sta uscendo l'aria perfetto stringo il mio sensore e vado a stringere con l'apposita chiavina vedete la sagomatura appunto per agevolare lo stringimento del contro dato vado a stringere appunto così è montato. Andiamo a fare subito un primo test e vediamo quello che ci dice lo strumento. Chiaramente non ci resta che ripetere l'operazione sugli altri tre pneumatici accendere la macchina andare in movimento e vedere quello che succede all'interno della nostra centralina. I prossimi step saranno quello di togliere la pellicolina nella parte del pannello solare ok e attaccare il nostro stick di biadesivo nella parte sotto. Ok una volta messo in funzione il nostro sistema radio di trasmissione possiamo vedere che le ruote anteriori misurano 2.1 bar e le posteriori 1.9. Adesso vi faccio vedere una cosa nel caso si dovesse scollegare un sensore andrà la nostra centralina in allarme e adesso per praticità andrò a scollegare il sensore posteriore dovrebbe mettere dei bip una decina di volte. facciamo la prova. Bene il sensore è qui nelle mie mani dopo un 4 5 secondi che è stato scollegato la centralina va in allarme e ci dice che c'è un'anomalia. Intanto possiamo vedere presente la temperatura sulle nostre ruote. Io vado a rimontare il mio sensore e automaticamente dovrebbe riprendere a segnalare la mia pressione. Adesso ci andremo a fare un giro solamente per vedere se il calore la temperatura dei nostri pneumatici tende a salire anche se è una giornata che ci saranno circa 20 gradi non è particolarmente calorosa come temperatura ma possiamo fare sempre una prova e fare subito un primo test. Siamo pronti all'incollaggio del nostro dispositivo. Ok adesso ce ne andiamo a fare un giro per vedere le temperature vediamo che sono tutte tra i 19 e 22 gradi quindi andiamo a vedere quello che succede. Possiamo notare in questo momento il lampeggio della ruota sinistra perché ha rilevato un piccolo abbassamento di pressione. Adesso andremo a casa attaccheremo il nostro gonfiacomme e provvederemo a dare una piccola gonfiata per portarle magari a due. Ok ci siamo fermati la temperatura rimasta tra i 22 e 24 gradi. 24 gradi segna la ruota di sinistra 23 la ruota posteriore destra. Adesso possiamo andare tranquillamente a spegnere il nostro dispositivo e vediamo che automaticamente non consumerà batteria né lui né i nostri sensori perché i sensori come abbiamo già detto una volta che la ruota sarà ferma il sensore non emetterà più il suo segnale. Ok intanto andiamo a vedere subito i pulsanti di sinistra e di destra schiacciando ripetutamente il pulsante di sinistra non so se riesco a farvelo vedere l'illuminazione si abbassa pigiando il pulsante di destra tutta l'illuminazione si accentua fino ad arrivare un massimo di come potete vedere forse di sera si vedrebbe un pochino meglio. Poi per andare ad accedere al menu diciamo al settaggio principale basterà schiacciare per tre secondi il tasto centrale e entreremo in una serie di menu dove potremo andare a decidere l'impostazione minima dell'atmosfera e l'impostazione massima sempre della relativa a pressione dei pneumatici ovvero possiamo andare a scegliere queste 70 gradi il massimo range di calore dove emetterà il bip e poi possiamo andare a vedere vedete fra frontale retro anteriore posteriore tutti i vari parametri vedete questa la pressione minima bar 1 e 8 la pressione massima bar 3 2 dove lui andrà ad emettere un bip un segnale acustico poi saremo noi in base ai nostri pneumatici settare ad esempio la pressione minima 1 e 6 la pressione massima 2 e 4 se io avesse un pneumatico che mi deve lavorare magari tra i 2 e 2 e 2 e 3 poi per ritornare al menu principale ovvero in posizione di standby basterà rischiacciare per tre secondi il tasto centrale quando non avrò più bisogno del mio dispositivo ecco che andrò a fare un tasto prolungato per circa altri tre secondi sul pulsante sinistro che è quello di accensione e spegnimento e bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video che ne pensate di questo oggetto poi vi lascerò il link qui sotto nei commenti come sempre per chi fosse interessato appunto all'acquisto di questo bel giocattolino e abbiamo reso non solo la nostra macchina un pochino più performante a livello di optional ma abbiamo fatto un bel upgrade per quanto riguarda la sicurezza specie nei lunghi viaggi che potremo tenere sotto controllo la pressione delle nostre gomme senza dover andare a ricorrere ogni volta per forza dal gommista o ad attaccare uno strumento per quanto riguarda diciamo appunto la pressione stessa quindi giunto a questo punto io vi lascio le solite raccomandazioni che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video sul canale se il video ti è piaciuto lascia un pollice in su e ci vediamo alla prossima grazie per essere stato con me anche in questo video ciao